Ciao a tutti, popolo del tubo, guardate un po' che cosa abbiamo riesumato House Flipper, dopo tantissimo tempo, credo anni, che non portavamo più questa playlist e questo contenuto Siamo tornati qua, e perché siamo tornati qua? Beh, perché noi siamo un po' patiti, siamo un po' fissati di agricoltura Ed è uscito il nuovo DLC Farm Flipper, potevamo noi non provarlo? Assolutamente no Io ringrazio la mia amica Selenuccia che mi ha fatto dono di questo DLC per poterlo provare e per poterlo portare Quindi grazie, grazie a Serena e a lei dedichiamo questa prima vista del DLC Vi ricordo che poi lo porteremo in live, quindi oggi farò il video registrato ma poi i prossimi video saranno estratti di live Perciò vi ricordo in descrizione l'altra mia piattaforma dove sono in live tutte le mattine e tutte le sere Se avete Prime vi potete pure abbonare gratis, mi potete aiutare e sostenere Mi potete aiutare e sostenere anche con un super grazie qua sotto Io ringrazio Bruno e Alessandro che mi hanno offerto il caffettino Grazie a entrambi, dedico anche a loro, insomma dedico questo video E poi il mio secondo canale, Robimello81 Extra, dove porto Formula 1 I giochi vecchi, i retro gaming, i giochi nuovi, tutto, vlog, qualsiasi cosa Quindi vi aspetto anche di là, Robimello81 Extra Ma detto questo ragazzi, iniziamo a vedere questo nuovo DLC Ovviamente il tutto è compatibile con le vostre vecchie partite Quindi io adesso ho aperto la mia vecchia partita di un anno e mezzo fa, due anni fa E ha riconosciuto tutto ed è tutto funzionale Qua dice scopri le novità del DLC Farm Quindi ci saranno animali e colture Modalità architetto Nuove case e molto di più Andiamo un po' a vedere Questa ragazzi, se non vado errato, è la nostra casa Eh, c'ho l'erba un po' alta devo dire Ma questa qua è la nostra casa Ci dovrebbe essere anche il nostro computerino Da qualche parte, se non vado erocchio Dovrebbe essere la nostra casa questa E fate un po' ricordato dove ho messo il computerino, raga Della cucina Questa è la porta di... Raga, non mi ricordo più niente Questo è il garage Ragazzi, eccolo qua il nostro computerino Eccolo qua, eccolo qua Allora Allora Completa un incarico di DLC Farm Quindi dobbiamo completare almeno un incarico del DLC Per sbloccare sta cosa Però qual è l'incarico del DLC? Io non vedo incarichi del DLC Qua Questo è del DLC del giardinaggio, sono quasi sicuro Mo quali saranno i DLC? Mappa degli incarichi Ecco qua, ecco qua C'è una mappa diversa, vedete? Oh, diamo uno sguardo alla mappa La mappa è questa, raga, guardate Oh, è quasi più grossa della mappa dei farming Ok Allora, allora Il primo incarico è questa farm Quassù Allora, dove è Molly? Se vuoi incontrare la coppia perfetta Dicono i locali Visita Joe e Lily Bla 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 Ah, hanno vandalizzato la stalla di questi due Ed è fuggita Molly Allora, allora Ok, dobbiamo andare a cercare Molly Dai, quindi come prima missione Di questo nuovo DLC Andiamo a cercare Mollina Dov'è Mollina? Molly? Mollina? Ragazzi, chi è che mi aiuta a cercare Molly però? Dagli su Allora, caricamento Caricaci un po' d'ansia, eh Non so se se sente l'ansia Non so se percepite l'ansia Ma c'ho un po' d'ansietta Perché Allora I can't believe it Dov'è Molly? Allora, il tetto va riparato Ok La nostra Molly va cercata Vabbè, lasciamo stare la traduzione come scritta All'aereo Ok Dov'è Molly, ragazzi? Dov'è Molly? Porca di quella puzzetta D'andata, Molly Allora Allora, dobbiamo Riparare Vendere Fare Allora Innanzitutto io andrei sul tetto Così intanto ripariamo il tetto Ma Io, raga, non mi ricordo i tasti Niente, eh Ok Ah Ammesso il rumore delle vespe Mi dà fastidio Penso un po' Sentite Lo sentite? Lo sentite? Io già che sento quel ronzio malefico Mi dà fastidio Io odio le vespe Allora Pulire Lava la finestra Ragazzi, io manco mi ricordo più Ah, ok Eh, ma sono migliorati De tanto i comandi, eh Non era così intuitivo ai tempi, eh Raga Via Fiamo via un po' d'aria Quassù che c'è Puzza De-de-de-de-de De chiuso Ok Togliamo le ragnateline Qua? Non lo so quello che c'è qua Ok Andiamo di sotto Togliamo le ragnateline Andiamo di sopra Puliamo il vetrino di sopra Eh, ragazzi Questo è molto da live, eh Sto gioco, eh Mi piace Riporteremo quindi House Flipper in live Probabilmente lunedì mattina Ragazzi, eh Allora Che devo fare io con ste balle, mo? Che devo fare io con ste balle Raccogliere? Vabbè, le lascio qua le balle Che a me frega a me Perché devo sistemare le balle? Dove le devo mettere io ste balle? Mica Mica lo so io Allora Ce so sei oggetti Che devo vendere Ma non ho ben capito Quali oggetti Ti devo vendere Tanto dammo una pulita Tutto qua E aprimo giù Perché c'è puzza De, de, de C'è puzza De pilipini Allora Gettare Ah, ok La paglia questa Va gettata tutta Ok Ok Dobbiamo ripulir tutto Povera molli Che gli hanno fatti I vandali a mollina Stamattina, eh Guardate Guardate che Che gli hanno fatti Ah, uh Che sta f... Che gli hanno fatto Che gli hanno fatto Allora Accogliamo questa L'acqua Dove andava? Aspetta, eh Aspettate, raga Eh, come se girava Ah, ok Così Ok Riempi Riempi con l'acqua Non so cosa sta succedendo Ma a me si è bloccato il gioco Ragazzi Si è bloccato il gioco Eh, o so io che Ragazzi Ragazzi, se è bloccato il gioco Eh, ragazzi Se è bloccato il gioco Ho dovuto fare Alt F4 Alt F4 Iniziamo bene Direi, eh Iniziamo bene Con sto DLC Vabbè Vediamo dove ci ha salvato Già è tanto Che ci ha scritto Continua Quindi qualcosa Ci ha salvato Sicuramente Se no Non c'era la scritta Continua Allora Vediamo dove si è bloccato Si è bloccato qua Riempisci Riempisci Mamma mia Riempisci con l'acqua Mamma mia Allora Eh, si è bloccato Quando ho fatto Riempisci col cibo Con l'acqua Allora Datemi un attimo Dopo Dopo andiamo a riempisciare Adesso direi che Puliamo tutto E famo prima Puliamo tutto E famo prima Ma qua devo ricostruire Vero? Allora A posto Qua non c'è niente Da pulire Sì, sì C'è da pulire tutto Povera mollina Che devo fare? Ma che devo fare Con la cacca? Dove l'ho buttata La cacca? Ah, devo spalare Il letame Ma che bello Spalare il letame Ma sto andando avanti Spalando il letame Ho capulito La cacca dei molli Sì, ho capito Questa è la merda De molli Ma molli Ma fatemi capire Molli Sì, ma do la butto Io sta cacca? Cioè, me la sta a mangiare Ragazzi Non è bello questo Eh, non è bello Mangiarsi la cacchina Di molli Vabbè, oh Non lo so D'andata Così E' andata Portate che è andata Raga Poi d'andata Non è Non è Altra cacca Di molli Che è Che è Siamo nella cacca Fino Fino Al collo Quando ci sol dire Che è Che è Che è Ma una Una vacca sola Fa tutta sta cacca Mamma mia E levate Ste vespe Finte Che io non le posso Sentire Pure se so Se so Pure Pure se so Che so finte Mi dà fastidio Uguale Ok Buttammo via questo Buttammo via questo Buttammo A posto Beh, direi che la stalla Mo' E' pulita Dammo una pulitella Ai muri Che giustamente C'era la cacchetta Quindi i muri vanno Vanno diciamo puliti Io credo che quella Staccionata lì Non ci sia La devo costruire O me sbaglio Quella è una specie Di intelagliatura Che ti fa capire Dove costruire Credo Eh Credino Raga Eh Credino Allora Qua si vede Dove è sporco Ok Poi a manina Ok Qua c'è Dovrebbe essere Un pilipino Ok Qua dobbiamo pulire I pilipini Cagnatelina Qua apriamo Oh Che c'è là sopra Che è là sopra Raga L'avamo le finestre Che è Mamma mia Ti è Apriamo via Aria Do starà A molli Raga A po' No No Che si compenetra Con la trebbia Lì Ecco Ne apriamo una sola Ha laggato Ah Ok Quando salva Lagga Allora Quando fa L'autosave Lagga Ok Ok Quindi Visto Visto che ha salvato Adesso Io direi Che è un buon momento Per andare a cercare Di riempire Di cibo Tutto Allora La mangiatoia Funziona Non si blocca Quindi la mangiatoia Della missione C'è Che dobbiamo Anche da Da bere Forse Forse se blocca Lì il gioco Non lo so Vediamo Adesso proviamo a fare Anche le altre cose Andiamo avanti Però No buono Ragazzi No buono Che C'è questo bug Che quando andate A riempire la mangiatoia Si blocca tutto Si bugga tutto No Ancora la merda Ma l'avevamo tolta La merda Ma perché Ma che amarezza Ma che amarezza Praticamente Non ci ha salvato Che è che non ci ha salvato Eh non ci ha salvato Lo spalaggio Se così si può dire Vabbè Allora Poi insomma Ripeto Finiremo tutto in live Vabbè Il cibo funziona Comunque Il cibo si può Si può dare Purtroppo Invece Non si può dare La 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 cosina Allora Vediamo un po' Come si faceva Raga Ah Ok Posiziona Ok Ok Vediamo un attimo Come si faceva Qua Mette la Il recinto Scusatemi Ok Così Raga Non mi ricordo Più Niente Ok A posto Uno L'abbiamo Messo Oh Vediamo Quest'altro Forse Dove che inizia da qua No aspettate Forse dove che inizia da qua Ok Oh Eppure ci dovrà stare un modo per Farlo tutto De fila Tieni premuto Cazzozza Allora Fatemi un attimo Ok A posto Allora Adesso dobbiamo mettere un portone da garage Vediamo un po' Chi sarà questo No Il cancello da recinto ovviamente Perché senza cancello E ma dove va il cancello Qua non me lo dice dove va il cancello Vabbè Mettiamo il portone Dai Portone da garage Eccolo qua Bello Bello Eeeh Dove si mette? Ragazzi Non può essere questo Il portone da garage Scusatemi Scusatemi Al massimo Al massimo qua posso Ah devo vendere Devo vendere Allora Vediamo un po' che cos'è che devo vendere Questo devo vendere Ho venduto? E mo? Ho salvato Mo che l'ho venduto Mo me lo farà mettere Il cancello nuovo Vediamo un attimo Oh Vediamo Che è oh? Ah dovevo buttare giù il muro Oh Abbiamo messo il cancello Bello 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 Oh guarda che bello Guarda che bello Il nuovo cancello Della stalla Eeeh Poi 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 Pulisci lo sporco Metti le piastrelle sul pavimento Pannelli scuri Ok Così ci ricordiamo pure Come si metteva sta roba Eeeh Oh così si metteva Ragazzi Così 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 Bello Bello Mo me ricordo Ragazzi Mo me ricordo Beh fatto pure bene Fatto pure bene Ragazzi Ok Così ragazzi Ragazzi Così ragazzi Ragazzi Ok Però là mo c'è da pulire la cacca Perché Ovviamente c'è la cacchina E con la cacchina De molli Riusciamo a mettere Una cittina Mi piace ragazzi Mi piace Mi gusta Mi gusta Ah me la metto uguale Con tutta la cacchina De molli Ottimo Mamma mia ragazzi Che mattonatori Che siamo Con tutta la cacchina De molli Riusciamo a A mettere giù I pavimenti Lo stesso A posto A posto Mo dice Eeeh Pulisci lo sporco Ok Compra l'oggetto Interruttori Ma qua su Invece Sul tettino Sul tettino Cos'è quella roba lì Non lo so Che cos'è quella roba lì Ragazzi Vabbè Allora Ma le balle Le dobbiamo togliere Le dobbiamo vendere Vediamo se devo vendere Le balle Ah no Ok Va bene Va bene Le devo prendere su Le balle però Come faccio a spostarle Ok Le mettiamo una Sopra l'altra Ok Quella è un'opera d'arte Allora Pulimo Oh Come pulimo Ok Così Togliamo tutto A posto Eeeh Ma puliamo Comunque raga Io credo che le vere funzionalità Del 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 DLC Le vedremo in live Che qua effettivamente Non è facile E poi ci vorrebbe un video Troppo lungo Ragazzi Per Per portare Tutto quanto Porca miseria Che io mi sbaglio Come si fa A A ruotare l'oggetto Ok 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 Ci vorrebbe un video Troppo lungo Ragazzi Già è abbastanza lungo Stiamo a 20 minuti Era così Giusto per Dargli una prova E per invitarvi A passare in live Dove Lo vedremo Meglio Insomma Sicuramente Apri Apri Ok 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 Questa va qua Tanto siamo bravi Ragazzi Che che Eh Siamo bravissimi Simerimi Sentite le zanzarette Vabbè dai A posto Eh Poi Balla di fieno Che dobbiamo fare con la balla di fieno A bevelatoio Trocolo Per i bovini in acciaio Eh Ma che devo venderla Sta roba Sì Oh Meno male Perché erano buggati Ma quindi pure sta roba Dovevo vendere Ah Dovevo vendere tutto Pensate Beh Pure questi Oh Quanta roba da vende Quanta roba da vende Allora Ma al tetto Io come ci vado A riparare il tetto Questa è una trebbia Raga Che è Ah no Ah no Scusate Questo è Per andare sul tetto Come ci vado sul tetto Io Salta Eh Usa 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 Ah che spettacolo Posso andare sul tetto così Cos'è questo? Il rampino Ma che so La da croft Ragazzi Il rampino Porca miseria Il rampino Venna sul tetto Tiè Che ce vuole a riparare il tetto Raga Tiè Usiamo giù le mattonelle A posto Che ce vuole a riparare il tetto A posto Oh Sta pure a piove Raga Ma io salto giù Ma che me frega Ok Eh Poi Poi Ok Fuori non c'è più niente da fare Dentro E ancora c'è Allora Arrennamo a pulì Lo sporco Qua La merdina Di 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 Clementina Qua Ok Sentite Sentite le apette Ragazzi Il pezzo della cacchina Lo rifacciamo Pulisci lo sporco 99% Ma perché non va avanti Pulisci lo sporco Ok In modo è qua Sarebbe figo però Sul farming Se se potesse Fa così Manualmente Fighissimo Allora E adesso compriamo Quello che c'è da comprare Però non capisco perché Non si sblocca ancora Il pulisci lo sporco Rimasta 99% Ma è tutto pulito Raga Che c'è da Ah La ragnatela La ragnatela Raga La ragnatela A posto A posto A posto A posto Ma tocca Posizionare la roba Abbiamo finito Allora Tocca Mette Un interruttore Per le luci Ok E questo lo mettiamo Qua Poi Tocca Mette Una a sei lampade Sei lampade E dove mettiamo le lampade So da parete O so Non capisco se so quelle da parete Vabbè Dovrebbero essere da parete Credo Una Perché sul tetto Non ci si mettono Quindi Due Tre Quattro Cinque E sei Poi Che altro c'è da mettere Due abbeveratori Guardate che carini Due abbeveratori Ne mettiamo Uno qua E uno qua Chissà se questi pure Sono buggati O pure sono buggati Solo quelli lì Della Della stalla Di default C'è quelli lì D'acciaio Poi Mettiamo giù Due Ancora Dove Beveratori Ah beh Quelli sono per il cibo Questi per l'acqua Ok Poi La cariola Magari La cariola Credo sia solo ornamentale Penso eh Non credo che possiamo Prenderla la cariola Poi Che cos'è sta roba La paglia La nuova paglia La nuova paglia Spettacolo Quindi la paglia La possiamo posizionare noi E poi E poi Erzecchio Erzecchio Ok Due secchi Oh Ragazzi Abbiamo finito Abbiamo finito Eh si raga Abbiamo finito Abbiamo finito Allora adesso Sapete che faccio Eh Metto la manina Così Salvo Non c'è per salvare Non c'è per salvare Fa da solo Perché volevo vedere Se se poteva riempire Se se potevano riempire I secchi Oppure Se Buggava il gioco Pure con i trogoli Quelli lì No Questo è il trogolo I secchi Questi nuovi Dell'acqua Vediamo se No raga Ho troppa paura Ho troppa paura Che se Bugga Raga Ho troppa paura Che se Bugga No Non concludo L'ordine Concludo l'ordine Oh Concludo l'ordine Guardate tra prima E dopo Beh c'è differenza Direi Ma in tutto questo Molli Che fine ha fatto L'abbiamo trovata Stavola Molli Non lo sappiamo E probabilmente Non lo sapremo mai Però adesso Abbiamo sbloccato Credo Il fatto di poter fare Quello che ci pare Con la roba Del DLC Perché prima Ci diceva Finisce uno scenario Per sbloccare Quella cosa lì Ma vediamo E Vediamo un attimo Se abbiamo sbloccato Qualcosetta Allora Si è stato dato Uno strumento Di progettazione Che cos'è Sto strumento Di progettazione D'ora in poi Puoi costruire Ah ok Quindi possiamo Fare le serre Arare un campo La zappa Che spettacolo Che spettacolo Ragazzi Quindi possiamo Creare i campi Fuori Fuori Nel nostro giardino Pure Vediamo un attimino Zappa No quella è l'ascia Dov'è la zappa Lancia fiamme Scatola dipingere Ascia Demolitore No Eppure Eppure non ce l'ho E no Scusate Dov'è la lascia Ah So due So due Menu Eccoli Eeeh Costruire edifici Zappa Ancora Zappa Vediamo se possiamo Fare un orto Dietro casa Ma no Raga È bellissimo Ecco cosa manca Farming Questo Che tu Colomino In manuale Puoi creati I campi O i piccoli Orti Ma no È troppo bello No È troppo bello Ci passerò Delle ore Ci passerò Delle ore Io già lo so Che ci passerò Delle ore No È troppo bello Raga È troppo bello Eeeh Possiamo anche Rimuovere Allora Si ho capito Ma mo E mo Come fa Massimina Come fa Massimina Allora Vediamo un attimo Mais Ad esempio Girazzo Zucche Pomodori Pomodori Dieci piantine Come strai Ma no Ma no I semi Di pomodoro No No Io voglio Gli semi Girasole Io non riesco a capire Allora Li metto qua E poi Granaio No C'è qualcosa Che non va Ragazzi Bisogna capire Come Come semina La roba Bisogna capire Ragazzi Come semina La roba Perché io Non l'ho Non l'ho Capito Raga Frutta Verdura C'è Scusatemi Acquirente Miglioramenti Galleria Negozio Piante Forse non era lì Che doveva Andà Semi Vediamo se c'è Semi Semi Oh Allora Semi di zucca Di mais Di pomodoro Semi di pomodoro Oh Vediamo un attimo Vediamo un attimo Lo sapete che mi ricorda Medieval dynasty Come Sistema Ma che Spettacolo Ma che Spettacolo Così Seminiamo Il pomodoro Oh Perfetto E adesso Bisognerebbe Vedere Se c'è Per Innaffiare Che ne so Che ne so Raga Ehm Colture Boh No Non riesco A capire Dove Dove Posta La roba Del Tutto Quello Che c'è Del dlc Farm Non riesco A capire Dove Posta Allora Ehm Innaffia C'è qualcosa Per innaffiare No Ehm Fertilizzante No Ehm Concime No Ma se io Schrivo Farm Oh No ma Questo è il Poster Allora C'è anche Un segmento Per costruire La serra Che spettacolo Il Granaglio È quello Che noi Abbiamo All'interno Del Granaglio Quindi la roba Che possiamo Vendere Credo Boh Non lo so Raga È da capire Bene È da capire Bene Però è uno Spettacolo Chissà se col tubo Posso innaffiare Eh Chissà se No dipingere Chissà se posso Orca Chissà se posso Innaffiare No No Ragazzi Mi pare divertente Mi pare carino Io mo Non so se devo Fertilizzare Dentro quanto Cresce la roba Come se L'accoglie Ragazzi Lasciate un like Commentate Se ne sapete di più Scrivetemelo qua sotto Che lo scopriremo insieme Magari nella prossima puntata Come fare tutto Lasciate un like Grazie ancora a Serenuccia Per questo regalo E grazie agli amici abbonati Che tengono in vita Il canale Anima vita e cuore del canale Amici Io vi saluto Dite la vostra E da DLC Farm Di House Flipper È tutto Alla prossima Ciao Ciao